dalla Tg regionale per sordi. Ci sarebbe un'altra pista diversa da quella di una vendetta maturata nel racket degli affitti, nell'occupazione illegale dell'ex hotel Astor che la procura di Firenze starebbe approfondendo per cercare la bambina peruviana Cata, 5 anni, scomparsa il 10 giugno 2023 dalla struttura. Riprenderebbe forza l'ipotesi che Cata possa essere stata sequestrata come vendetta trasversale per un abuso sessuale subito da un'altra bambina che viveva anche ella dentro l'ex albergo. Gli inquirenti e gli investigatori dei carabinieri starebbero tentando di bucare il muro di omertà che nei mesi ha annebbiato le indagini, provando ad esaminare di nuovo un'ipotesi che era stata fatta proprio all'inizio della vicenda ma che non ebbe, almeno in quella fase, riscontri idonei a tenerla in considerazione. Un turista di 28 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze dopo essere stato ferito con un'arma bianca all'addome proprio la notte di Capodanno in Piazza Signoria. Da quanto avrebbe riferito ai carabinieri la moglie, il giovane di nazionalità marocchina durante i festeggiamenti per il nuovo anno sarebbe intervenuto per dividere due persone a lui sconosciute che stavano litigando tra loro, venendo però poi colpito lui. Il 28enne si è recato in ospedale però solamente la notte scorsa. È stato operato, è in condizioni stabili e non è in pericolo di vita. Ci sono degli accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Firenze per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il giovane dopo essere stato ferito non avrebbe chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e nemmeno appunto si sarebbe recato subito in ospedale. Solamente la scorsa notte, visti i forti malori, è arrivato in codice rosso all'ospedale. Un uomo di 35 anni di nazionalità cinese è gravissimo all'ospedale di Careggi a Firenze. Era a bordo di una bicicletta ed è stato travolto nella notte a Prato in via dei fossi da un veicolo che poi si è allontanato. Dunque un veicolo pirata. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. È stato trasportato in codice rosso prima all'ospedale pratese Santo Stefano e poi a quello fiorentino di Careggi. Al momento non sembrano esserci testimoni diretti dell'incidente, al vaglio degli investigatori, le immagini delle tante telecamere distribuite nella zona. Due persone sono rimaste intossicate a Livorno a causa di un incendio scoppiato nel loro appartamento per un probabile cortocircuito di un eletto domestico. I due soccorsi dai vigi del fuoco sono stati accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti da un'ambulanza del 118. L'intervento all'undicesimo piano di un palazzo in Borgo San Jacopo intorno alle 10 e 30 di stamani ad andare a fuoco una lavastoviglie. Drammatico intervento dei vigili del fuoco che ieri hanno salvato un uomo che si era tuffato in mare a Viareggio davanti alla Darsena per soccorrere il proprio cane trascinato dalle onde a largo oltre le boe di segnalazione. Le onde erano alte due metri, le correnti molto forti che hanno messo presto in difficoltà l'uomo che non riusciva più a riguadagnare la riva e perdeva energie. Una passante sulla spiaggia si accorta per fortuna della situazione, ha allertato subito i soccorsi e subito sono arrivati i vigili del fuoco con la moto d'acqua e poi hanno individuato il malcapitato aiutandolo a tornare a riva. L'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e nel frattempo il cane per fortuna è riuscito a raggiungere in modo autonomo l'arenile. Sul posto è intervenuta anche la guardia costiera. A Pistoia entra in vigore da oggi la nuova regolamentazione della sosta con alcune importanti novità che vanno ad agevolare i veicoli a emissioni zero ma prevede anche riduzioni in base al reddito ISEE. Prevista anche una diversa disciplina oraria per i parcheggi Cavallotti, San Giorgio, Pertini e Ex Ceppo. Per quanto riguarda la sosta negli stalli a pagamento è prevista la gratuità per chi acquista veicoli a ridotto impatto ambientale. L'esenzione continua ad essere prevista per i veicoli a completa trazione elettrica. A questi si aggiungono le auto ibride, cosiddette plug-in, quelle con la presa di ricarica elettrica che offrono elevata autonomia ai bassi consumi di carburante. Le auto ibride invece dovranno pagare regolarmente la sosta. Scomunicato ufficialmente dalla diocesi di Livorno, così la chiesa di San Ranieri perde Don Ramon Guidetti, sacerdote livornese di 48 anni, parroco alla chiesa di Guasticce dal 2017. Durante la celebrazione del 31 dicembre il parroco avrebbe pubblicamente dichiarato di essere in contrasto con Papa Francesco e con la chiesa. Affermazione a cui poi è seguito l'abbandono della parrocchia a lui affidata. Sciopero di 4 ore l'8 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 dei lavoratori di autolinea e trasporti a Pistoia. Possibili ritardi e cancellazioni sia in ambito del trasporto urbano che extraurbano. La protesta coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Si aggrava la situazione nei pronto soccorso. In questi ultimi giorni di festività sono proprio sotto assedio e aumentano in modo preoccupante i tempi di attesa dei pazienti che necessitano di un ricovero. A fornire il quadro della situazione a livello nazionale è il Presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. A riguardo però il Presidente della Toscana Gianni ha detto che per ridurre la pressione sui pronto soccorso una strada potrebbe essere quella di aprire centri di primo soccorso nelle case di comunità e a Firenze ad esempio uno di questi è la casa di comunità che sarà aperta in Viale Europa. E ora veniamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana, variabile con nubi a tratti intense, locali piogge sul nord e intorno al Monte Amiata fino alla prima parte della mattinata. I venti sono moderati, occidentali con rinforzi sulla costa settentrionale. I mari molto mossi e le temperature invece in aumento. È tutto per questa sera, arrivederci!